e bello a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi vi andrò a farvi dire come avere una rap cioè una mimetica gratis dall'epic games non sono delle hack tramite siti strani solo che è una cosa che ha voluto fare l'epic games a tutti i giocatori di fornite allora il codice d'accesso è dobbiamo mettere sempre più grande a o 9 n g trattino l v h v trattino t c l g s trattino 54 y t b ora andiamo a riscattare se confermi di voler attivare questo codice sul tuo account attivo ok ora mi rimetto la clip della play in cui vi faccio vedere come l'ho riscattata bella ci vediamo dopo ok raga siamo arrivati su fornite ora vi farò vedere andiamo ed ecco come potete vedere da quel procedimento vi daranno in regalo questa rap foria della foria ma se tu si le fa parte del set ma l'edizione creptica ora le andiamo a riscattare e spero che questo video vi sia piaciuto voi mi raccomando iscrivetevi lasciate like e comunque o metterò il link costato in descrizione del il link del del sito su cui riscattare il codice quindi noi ci vediamo in un prossimo video